Sì, sicuramente la passione è quella che governa la nostra attività e la passione parte dai bimbi di tre anni perché abbiamo tanti bimbi che approcciano questa attività principalmente perché i genitori la scelgono come ausilio educativo a quello che già normalmente fanno loro e fa la scuola e abbiamo anche tanti bimbi con difficoltà abbiamo dei bimbi speciali che fanno allenamento con noi e ovviamente abbiamo una grande soddisfazione nel lavorare con le fasce d'età giovanili come vi ho detto però abbiamo anche l'alto profilo abbiamo ragazzi che fanno gli europei, che fanno i mondiali in questo momento che stiamo parlando un nostro ragazzo Mario Iannuzzi è convocato a Budapest in occasione del mondiale Seniores come uno dei quattro italiani scelti per collaborare con l'organizzazione perché gli arbitri mondiali devono fare gli esami e devono fare gli esami con dei ragazzi che li aiutano e solo quattro italiani sono andati a fare questa esperienza e le altre nazioni ne hanno mandate altre tanti quindi è una cosa particolarmente prestigiosa gioia immensa anche se devo dire ogni volta si ripropone questa gioia perché poi non è la prima volta che noi facciamo con Mario Iannuzzi abbiamo nominato con bronzo agli europei ma abbiamo fatto oro agli europei abbiamo fatto ore mondiali abbiamo fatto bronze mondiali insomma abbiamo costantemente dei risultati ovviamente non tutti gli anni però tre o quattro anni ma sicuramente esce qualcosa è una cosa è una cosa